Presidente, assieme all'ambasciatore d'Italia-Vienna, oggi questo incontro che tiene formalmente a battesimo un nuovo Fogolar Forlan qui a Vienna. È una bella occasione, è stata l'occasione oggi di poter conoscere le giovani che si occuperanno della costituzione di questo nuovo Fogolare ed è anche l'occasione ovviamente per entrare in contatto con le tante persone, i nostri corregionali che vivono all'estero, che sono molto legati però al loro territorio, che saranno e sono le nostre antenne nei territori nei quali vivono e che possono essere anche l'occasione di scambio di informazioni, di consolidamento di rapporti, ma anche semplicemente di mantenimento di tradizioni importanti anche per noi.